Io sono Giulia e ho il ruolo di responsabile del punto lavoro per tutti i trattamenti che noi facciamo superficiali sui nostri prodotti. Sicuramente questo incontro è stato molto importante per il team di Bia21 e anche credo per invece, innanzitutto per instaurare un rapporto e instaurare uno scambio di nozioni che magari invece ci dà riguardo a quello che sono i loro trattamenti dove noi magari non abbiamo queste conoscenze estremamente tecniche. Quindi è stato sicuramente qualcosa di molto importante e importante anche per chi magari lavora in Bia21 e non direttamente con il ruolo magari di chi segue i trattamenti. Quindi chi segue la parte di ciocco tecnica o il montaggio di un prodotto finito sicuramente ha avuto delle nozioni molto molto importanti. Quindi direi che il ruolo di Bia21 è stato veramente molto positiva e a volte sarebbe anche conveniente rifarlo nel senso che a volte ci sono anche aggiornamenti e sarebbe anche importante un ruolo di rifarlo sicuramente. Sono Sebastiano Vasta, responsabile di formazione di Bia21 e oggi abbiamo fatto questa giornata di Bia21 e invece è molto interessante se dal punto di vista tecnico conoscenza del processo e delle proprietà che l'allunizzazione ti permette di ottenere nei vari utilizzi, quindi sia all'esterno che all'interno, con grande profondità in quello che sono stati e anche i pretrattamenti perché determinano finiture diverse e permettono all'alluminio di assumere spazio estetico che lo differenzia sicuramente dalle altre finiture, verniciature e finitature rendendolo sempre un materiale vivo e molto molto richiesto nel mondo che noi siamo presenti con un numero architettorale legato agli architetti e ai design. Grazie! Grazie! Grazie!